Fate almeno 30 minuti di esercizio 3-5 volte alla settimana? Salve, sono Luigi Gratton, vicepresidente per la formazione nutrizionale Herbalife. La domanda di questa settimana riveste grande importanza per me. Parleremo di esercizio fisico adeguato. L'uso di integratori nella dieta non serve a molto senza un regime regolare di attività fisica. Ogni momento è quello giusto per uscire all'aperto, mettersi in forma e seguire una vita sana. La quantità di esercizio dipende dagli impegni che abbiamo, ma io consiglio una frequenza di 3-5 volte alla settimana. In genere alterno i tipi di allenamento. Il primo giorno mi dedico alla parte superiore del corpo, il giorno dopo alla parte inferiore. Non fa bene stressare troppo articolazioni, ossa, muscoli e legamenti. Quindi evitate di lavorare tutti i giorni su uno stesso gruppo di muscoli. Un'eccezione sono gli esercizi per i muscoli addominali, che potete fare quotidianamente per rafforzare il fulcro del nostro corpo. Ecco alcuni utili suggerimenti da tenere a mente quando fate esercizio. Primo, il riscaldamento. Dedicate dai 5 ai 10 minuti al riscaldamento. Serve a preparare il corpo allo sforzo fisico. Camminate prima di fare jogging. Fate jogging prima di correre. E non dimenticate un po' di stretching. I muscoli caldi consentono una maggiore mobilità delle articolazioni e riducono la probabilità di infortuni. Secondo, variate. Vi è mai capitato di cominciare un programma di fitness e di abbandonarlo poco dopo? Un possibile motivo potrebbe essere la noia. Un programma che prevede attività diversificate, come ad esempio camminata o bicicletta il mercoledì, e tennis o nuoto il venerdì o il sabato, vi aiuta a mantenere interesse e motivazione. Terzo, gli antiossidanti. Non dimenticate il ruolo importante che ha la nutrizione ai fini di uno stile di vita attivo. Cercate di mangiare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura per trarre il massimo beneficio dal vostro programma di fitness. Se fate regolare attività fisica, è opportuno dare all'organismo quello di cui ha bisogno. L'integratore proteico in polvere Herbalife è un integratore importante per sviluppare e mantenere la massa muscolare. 5 grammi di proteine di soia e di siero del latte e tutti i 9 aminoacidi essenziali in una formulazione in sapore e senza dolcificanti, che può essere aggiunta ai vostri cibi per integrare l'apporto di proteine o semplicemente ad acqua, minestre e condimenti. Potete anche provare l'integratore alimentare Herbalife Nightworks prima di andare a dormire, per aumentare la produzione di ossido nitrico nell'organismo e favorire una corretta funzione circolatoria, grazie alla larginina. Nightworks ha anche un alto contenuto di vitamina C ed E, noti antiossidanti, che proteggono le cellule dall'effetto dannoso dei radicali liberi. Grazie a questo supporto, il sistema cardiovascolare può trasportare ossigeno in modo più efficiente ed avere effetti positivi come fornire energia alle cellule muscolari anche durante l'attività fisica. Per maggiori informazioni su quali prodotti Herbalife possono aiutarvi nel vostro programma di attività fisica, rivolgetevi al vostro personal coach del benessere. Termina qui la discussione di questa settimana. Io sono Luigi Gratton e vi ricordo che l'esercizio va fatto con intelligenza e regolarità.